Benvenuti a un nuovo Sfogliatopo dedicato sempre ai maestri e ai tesori Disney nelle loro varie incarnazioni. A tal proposito vi ricordo che in descrizione trovate il video di collezione Disney dedicato. Inoltre questo Sfogliatopo è speciale visto che andremo a vedere ben due volumi di Tesori International dedicati a Marco Rota. In particolare il secondo propone l'intera saga del famoso personaggio ideato da Rota sull'almanacco topolino Piccolo Crack. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.